Ciao ciurma e benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio rivelarvi un segreto, un super segreto che solo i super amici dei film Disney possono sapere. Avvicinati. Ma tu lo sai come si fa un cartone animato? No! Perfetto! Allora te lo spieghiamo noi. Innanzitutto bisogna scrivere una bella storia. All'inizio non è facile, bisogna farsi venire un'idea. Ma per fortuna alla Disney le buone idee non mancano mai. E così, parola dopo parola, riga dopo riga, pagina dopo pagina, ecco che la storia è pronta. Però, manca qualcosa. Ma certo! Per essere un cartone animato, questa storia deve essere disegnata. Bisogna fare tutto. L'ambiente, il sole e soprattutto i personaggi. Ma tu lo sai come si inventa un personaggio? No? E va bene. Allora, ti rivelerò anche questo segreto. Per inventare un personaggio, bisogna pensare al suo carattere. Certo, perché se è cattivo, non può avere una bocca così. Così. Velo? E poi bisogna... Bisogna... Ah sì! Bisogna mettergli dei bei vestiti. Altrimenti sai che vergogna. Però, un personaggio non basta per una storia così bella. Ce ne vuole un altro, e poi un altro, e un altro ancora. Ok, facciamo una pausa, che mi sto dimenticando qualcosa. Per fare un cartone animato... Per fare un cartone animato... Ah sì! Bisogna animare i personaggi. Altrimenti sarebbe un cartone fermo. E sai che pacchia. Vedi, animare un cartone vuol dire che i personaggi possono... Correre, saltare, ridere e piondere. E non basta un disegno solo. Ce ne vogliono tantissimi. Perfetto. Adesso sarai soddisfatto, vero? No? Ma cosa c'è ancora? Ah, capisco! Questo cartone è un po' troppo silenzioso per i tuoi gusti? Nessun problema. Quando si inventa un cartone animato. C'è anche un musicista apposta, che inventa apposta, delle canzoni apposta, per i cartoni della Disney. E lo fa apposta! Non per sbaglio! E così, musica, effetti e voci, che sono prestati da persone, che di lavoro prestano la voce ai personaggi, dei cartoni animati, e il film è pronto. Pronto per essere... goduto, nel massimo comfort. Per cui, scatene la fantasia! E arrivederci al prossimo film Disney! Allora, questo era il segreto che volevo rivelarvi, su come si fa un cartone animato a Walt Disney. Allora, io vi invito a lasciare un bel mi piace, condividere, e taggare amici, e, mi raccomando, iscrivetevi al canale, e attivate la campanella delle notifiche, per non perdere anche un video del sottoscritto. Ciao! Yoho! Beviamoci su! Ciao!